Questo convegno sulla qualità dell'aria legato al tema della salute è stato organizzato in collaborazione con i Lions Ravennati con cui da tempo stiamo elaborando progettualità composite sui vari temi ambientali. Ci interessa molto questo tema perché coinvolge a 360 gradi l'attività del comune ma soprattutto l'attività che dovrebbe in qualche modo condividere con la cittadinanza comportamenti e scelte. Qualità dell'aria è innegabile che presenti qualche problema, è innegabile che qualche riflesso sulla salute si ritrovi, è innegabile che tutto quello che stanno facendo normative, scelte pianificatorie organizzative raggiungono qualche risultato, è innegabile che dobbiamo cominciare a interrogarci su come noi cittadini possiamo in qualche modo influire positivamente su un miglioramento dell'aria che respiriamo. Non solo dell'aria che respiriamo perché il nostro comportamento deve incidere in qualsiasi matrice ambientale però ad esempio l'uso dell'auto ci sta condizionando in maniera preponderante rispetto alle emissioni e rispetto all'aria che respiriamo. Questo è uno degli elementi più significativi che vorrebbe anche questo convegno far mettere come impegno o come pensiero per il futuro a tutti noi.